Rigorosa professionalità imprenditoriale Nata dalla passione per la distribuzione elettrica di Giorgio Galvani, il fondatore che fece di un mestiere un'attività. Questa avventura imprenditoriale iniziò nel 1960 con pochi sostegni ma con molta convinzione. Il nome già noto nel settore fece sì che l'impresa Galvani Giorgio fornisse i propri servizi a enti come Edison, Emiliana, Bresciana. Ben presto l'intraprendenza diede corpo ad un'impresa vera e propria che vide il proprio apice negli anni 70 con oltre 40 dipendenti. I servizi coprivano diverse province come Parma, Cremona, Mantua e Brescia. In quegli anni venne sviluppato anche il settore stradale con diverse opere di urbanizzazione.